Nemo è una canoa di circa 2,80 m di lunghezza per un 75 cm di larghezza. Le sue sezioni, in corrispondenza della sezione maestra, della mezzeria, quindi dell'imbarcazione, sono abbastanza piene. Le ho disegnate così per poter, con questa lunghezza limitata e la larghezza anche limitata, poter ottenere comunque un dislocamento complessivo importante. Ciò significa che l'immersione, per esempio, che vedete in questa configurazione, quindi con il pelo dell'acqua in corrispondenza di questo piano, corrisponde ad un peso complessivo di 100 kg. Tenendo conto di 20 kg di barca più 80 kg di peso dell'adulto, vedete che otterremo appunto questo galleggiamento, diciamo questa immersione complessiva di Nemo nell'acqua. Quando il pelo dell'acqua andrà a sfiorare la parte bassa dello specchio di poppa, avremo circa 140 kg di dislocamento. Questi 140 kg li potremmo ottenere installando, ad esempio, a poppa, un piccolo motore fuori bordo con relativa batteria. Quindi anche mettendo un motore, quindi del peso aggiuntivo all'interno di Nemo, otterremo comunque una linea, diciamo delle linee d'acqua sempre abbastanza fini, non andremo a immergere lo specchio di poppa che ci potrebbe far aumentare notevolmente la resistenza di avanzamento. Il disegno del risultato del disegno delle forme di Nemo, è confluito nella definizione del piano di costruzione, quindi nel disegno del piano delle sezioni trasversali, nel piano delle linee d'acqua e nel piano delle sezioni longitudinali. Nemo sarà possibile assemblarla partendo dai piani di costruzione, ma ci sarà anche la possibilità con i file di taglio di avere alcune parti pretagliate a controllo numerico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!